Ok siamo free raga, questo game lo vinciamo, dobbiamo fare almeno 40 bombe da questa squadra e me l'aspetto ragazzi, onestamente Vabbè sei va, confido in te, ragazzi ho 4 pruni da spruzzarvi in faccia quando volete Io non le voglio Ah no, ok, il capio è già qua Oh arrivo Ma ragazzi, mamma mia però ragazzi, mamma mia Devo dire che io e se facciamo veramente molto bene Vedo cosa mi dà il consiglio, che si freezza il giocatore mentre corre in automatico Si freezza? Non ho capito Mentre corre, tipo si blocca il personaggio, non cammina più Guardi mentre vola Oddio stanna questa cosa Ma è sua eh Eh ma hai fatto, ma hai fatto No no no, si chiude anche te Marti, sei morta in un torneo così nella sono Cioè mentre vola, che sei in autoranno, cose così E ti si trocca il personaggio, tipo Oddio, ti giuro non mi ricordo Ragazzi io ho 0 cure, ma anche voi? No, io ho 2 ping, 2 medditi Ragazzi, ho 8 clinger io, cioè Va bene, ok 5 mini, 2 ping Ok ragazzi, noi vogliamo push here Perché noi vogliamo il medallion, sì? Eh... Yes, yes Sto prendendo il cavo Sto prendendo il cavo Ma vieni sbirro, eh sì sbirro L'ho chiamato sbirro perché c'ho sbirro nel nome, Cristo Dio Vieni a pushare, drago Sennò le tedesche non vogliono il tuo gingillo Muoviti Vai ragazzi, 2v4 Andiamo Boxfight? Usavamo boxfight No, non cado, non cado, non cado, non cado, non cado, non cado Oh shit Mi ha, mi ha, mi ha, mi ha cicchiato Sì, lo visto, tranquillo Aia Mi ha fatto male la gingilla Vabbè ragazzi, siamo 4v3, mo ci guiriamo e li busciamo a sti coglioni, dai 61 Ragazzi ho 0 cure, avete i mini? Anzi, no, 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 non mi servono i mini Dai ragazzi, dai Uno è ancora fermi in AIG, capi? Uno è ancora fermi in AIG Due sono fermi in AIG Spaccate, rispacate quelle termosifone, vi giuro No, 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 no Non cado, no, 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 no No, dove, dove Da sopra, qui siamo contro due ragazzi, non possiamo far cappare, dai 150 Mi sento una testa, che mi snappano Porco due ragazzi non c'è tanto a quello da me questo che mi roves ad un altro a una metà madonna con un fenomeno del maloio in tre sino fino a fatti trezio porco buonasera dove sa dove capitano non facciamo andare via 140 102 40 crack 69 ragazzi c'è vero giuro questo mi sta per un'altra volta equito no se qui ti vuol dire che non mi vuoi bene se avete lo dico e credo che un pochino di vuoi bene ormai ragazzo fight io ho fatto il marco bella c4 160 160 60 non avevo capito che avevo preso il muro eh raga io uno lo fa aspetta aspetta bravissimi ragazzi arrivo subito da me da me sono morto fuori p... no that's tutto bene mi vedete mi vedete la car di sema raga che allora siamo? io ho preso la cosa la 100 200 200 dove va arrivo capi? oh my god full box full box morto va bene lo voglio restare 100% passi qua dentro dentro la stazione sicuro finisco questo sono qua fuori sono scappando li vedo li vedo scappano scappano da me raga ok si è vero è vero è vero quindi rush il mio siete lì a fettare voi si si sono arrivo cavi ti push uno forse impulso ah io non lo sapevo se va è morto bravissimo vai busciamo questo 180 180 180 180 180 180 ah la skin quella rosa 25 traccato uno di vita e skin panocchio maschio panocchio maschio vabbè un altro traccato la skin quella del giardiniere questa cosa traccato box morto da me l'altro 100 200 morto un furore della savana bravissimo se vuoi anche da era lui sono due giardinieri mi ha fatto 150 non so come è vero che lo stessi scorso ragazzi c'è martina tranquilli c'è oh mio dio oh my days oh my god and it's graciousness per era noccato però questo qua raga quindi ne mancava onsy donsy qua dietro arrivo arrivo se un eminem è solo questo l'ho distrutta eh rivederci era un eminem no era un aura noccata passi da me eminem passi da me 110 in quick ok quello lì è solo passi da qui 30 knock è mio andate via 40 deve trallare deve trallare oh my god guys questa partita è bellissima sto andando via 200 oh mio dio va bene va bene no 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 sei un ladro un fi vi eh ho capio drago la skin l'ho vista io no io no eh 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 o io no eh chi è quello siciliano aspetta andiamo da seba raga andiamo da seba seba ne ha 4 raga 4 andiamo da una mano 121 seba 200 e c'è un'altra morto 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 va bene oh my god guys eccolo dai come ne ho preso morto uno da me morto uno da me c'è una roba questo 73 da me arriva arriva va bene 16 dove hai capito oh mio dio sono 46 indisi 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 prendiamo riprendiamo il seguino dai dai con nato 200 morto lo giu no white morto l'esimente rubata questa c'era dove abbiamo finito quelli c'è uno però quando ha fatto la barre butta eh eh appunto 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 non avranno armi da meno che non hanno bisogno ripeto 116 la ryzen c'è noccato l'ho visto l'ho visto adesso nooo non ha brutto gesto ma col te tu andrew adesso c'era un amico però non so dove sono andrew lì ragazzi fightano hanno un crack e prendiamoli raga che sono gli ultimi due team attaccato uno attaccato uno no ma sto qua ragazzi è bianchissima c'è esatto lui esatto non ho info mi ha sfrattato da dietro uno che sono gesto dove sta trago questo si è preso di mano dietro di te qua forse naig eh ma fa 5 zi eh lo so si si e naig lo pisto lo pisto ma se non esce c'è eh si si è dead eh ma io non l'ho non l'ho killato cioè non l'ho killato c'è chi è nato? oddio no ma no me l'hai stillato ti giuro che l'ho prendo anch'io sta fatta il kit sta fatta con il lotto questa guarda guarda quelli oddio non c'è sfuglio 116 vai sono in due arrivo piccoli piccoli oh my god oh my god what a game guarda io ho fatto 10 kill ragazzi da distanza sono bravo dg raga per vedere i danni ne ho fatto veramente un bot veramente un bot ah quasi 5000 danni devo dire abbastanza succulenti effettivamente comunicando ai gentili eeeh 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 eeeh